Tra Salvini che dice aprire quando i dati lo contengono e il ministro Speranza che dice chiudere finché i dati lo impongono, che differenza c'è? E perché anche questa volta Salvini ha tutto questo bisogno di dichiarare vittoria? Perché i partiti non vogliono ammettere quello che... è passato poco tempo ma si sono già dimenticati, un po' tutti eh Salvini, più di tutti. Che se Draghi è arrivato è perché la politica dei partiti non è riuscita a fare il suo mestiere perché non è che è arrivato Draghi per caso e non si poteva come il presidente Mattarella ha spiegato andare al voto. Questa cosa diciamo un giorno sì e l'altro pure la dimenticano quindi alla fine decide Draghi se c'è una tempesta in mare purtroppo capisco che è difficile ammetterlo ma è anche per me e per tutti quanti. Poi su queste giornate di primavera bellissime e siamo fatti così, siamo esseri umani e noi ci illudiamo che in qualche modo cambia il tempo e migliora tutto purtroppo dobbiamo avere ancora un po' di pazienza. Se c'è la burrasca il comandante ascolta tutti e poi dice si va da questa parte qui. Secondo voi a Mario Draghi non piacerebbe riaprire? E poi guarda l'hai citato tu prima Lilli la coincidenza con Macron che ha detto le stesse cose in più loro chiudono le scuole e noi no. Quindi non è che Draghi si è svegliato e chiede a sua moglie ma cosa ne dici senti Serena chiudo o non chiudo? Ragazzi ha chiesto a un comitato tecnico scientifico e lui sarebbe il primo sono certissimo a voler riaprire. Non possiamo ancora credo, temo. È ovvio che è così ma sembra abbastanza ovvio Maurizio Molinari ma non è così per tutti. Salvini ha anche detto che è così per tutti.